Mio figlio, il portatore di luce, così pieno di luce, che acceca anche te alcune volte. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ho capito che sei arrabbiato con me e mi dà tanto dispiacere tutto questo. Quindi ti dispiace per me ma non ti dispiace per quello che hai fatto? Io non ho detto questo, ma voglio dirti che non posso risolvere i tuoi problemi. Ma tu sei Dio! Ok, va bene. Allora se non puoi aiutarmi, papà, almeno smetti di controllarmi. In che modo ti controllo? Tu mi hai appena fatto cantare! Di nuovo! E questo deve finire, papà! Veramente io non credo sia possibile. Sì, beh, se non ci proverai non so perché dovrei preoccuparmi. Non è che non voglio. È che non so se posso. Cosa vuol dire? I miei poteri, figliolo. Credo che io stia perdendo il loro controllo. Papa? Papa?